Sto in una condizione ancora di verifica delle condizioni che mi hanno indotto a dimettermi. Non è cambiato nulla, io sto verificando non le condizioni di solidarietà alla mia persona, non è questo il problema, io sto verificando che ci siano le condizioni di affrontare con serenità e con decisione questa seconda parte del ciclo amministrativo che mi dovrebbe competere. Oggi ho incontrato il gruppo del Partito Democratico su iniziativa del segretario provinciale, ma questo non basta, io devo ascoltare i capigruppo che sostengono questa maggioranza, verificherò nei prossimi giorni se le condizioni che mi hanno indotto a dimettermi siano comunque dissolte. Ciò non significa che io, perché sono stato chiamato a questa funzione dai cittadini di Avellino e quindi le risposte io le devo dare ai cittadini di Avellino, non vada in consiglio comunale a portare le conclusioni qualunque esse siano. Qualunque esse siano perché, ha detto bene il segretario provinciale, tutto quello che avverrà nei prossimi giorni avverrà alla luce del sole, cioè davanti alla città in consiglio comunale che il luogo deputato è il massimo consesso a cui rendere conto, dare le risposte e cercare di riprendere un cammino che si è interrotto in questi giorni. Utilizza ancora il condizionale, quali sono le precondizioni che poi la lasceranno intendere per un ritorno sui propri passi? La condivisione su quella parte di programma da attuare rapidamente, in pochi mesi, perché per tutta una serie di ragioni abbiamo dovuto distogliere l'attenzione da quelle che sono esigenze principali, prioritarie della città di Avellino, per mettere in sicurezza la finanza del comune di Avellino. Quindi è stato un lavoro difficile, defaticante, molto molto delicato, che non sconta, non ci fa stare sicuramente tranquilli al 100%. Però oggi siamo nella condizione di aggredire i problemi veri della città, perché i cittadini questo chiedono. Quando mi incontrano mi chiedono di ritirare le dimissioni, ma mi chiedono anche che i vigili urbani ci siano per strada, che il verde venga manutenuto, che ci sia la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e non solo. Quindi io ho il dovere di rapportarmi a queste esigenze della città di Avellino, che mi ha chiamato, una parte della città di Avellino, ma sono il sindaco degli avellinesi, una parte della città di Avellino mi ha chiamato a questa responsabilità e intendo assolverla con la schiena dritta, con la schiena ditta e nell'autonomia del mio giudizio rispetto a quello che è accaduto e quello che accadrà nei prossimi giorni. Da più parte è arrivato anche l'invito Foti, ritorni e formi una nuova giunta da uomo libero. Cosa si sente di replicare a queste dichiarazioni? Ma questo sta nelle mie valutazioni. Io ripeto, insomma, ma qualsiasi cosa io deciderò di fare, ripeto, lo farò davanti al Consiglio Comunale e comunque alla luce del sole. Alla luce del sole. Chiaramente la mia esigenza primaria è di delineare con l'accordo dei gruppi di maggioranza un programma con un preciso cronoprogramma di medio termine per dare le risposte più immediate alla città. Poi ci sarà tempo anche per l'aggiunta. Il problema dell'aggiunta è residuale, è secondario. Lei parla di maggioranza, ma nel cronoprogramma e in un eventuale rientro ci sarà spazio anche per quella parte di opposizione che ogni tanto lancia messaggi, apre? La legge impone al sindaco, dà la prerogativa al sindaco di presentarsi in Consiglio Comunale e di ricercare il più ampio consenso sui provvedimenti. Quindi è chiaro che per me è doveroso anche aprirmi all'eventuale contributo delle deposizioni, tutte, nessuna esclusa, ma aprirmi al contributo non è che devo fare accordicchi o accordi. Io mi voglio aprire al dialogo, al confronto, ai miglioramenti, ai contributi, alle integrazioni che possono venire anche delle opposizioni. E' un mio diritto amministrativo e anche politico discutere alla luce del sole con tutti, quindi maggioranza e opposizione. Specialmente dopo una fase così critica che si è conclusa con un gesto di responsabilità da parte mia, quello delle dimissioni.